Allora, signori e signori, abbiamo appena terminato la gara di regolarità. Non vogliamo disturbare chi si sta un attimino riposando dopo due giorni di intensa attività. Però, ringraziamo il Volkswagen Centrum di Bari, ringraziamo la Puglia Volksklub, ringraziamo tutti i collaboratori, ma signori e signori, ringraziamo tutti i proprietari delle automobili che abbiamo qui oggi, Maggiorini, Bulli, Chopper, di tutto abbiamo, Ciccio. Eh sì, 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 davvero una meravigliosa giornata, ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato con questi favolosi mezzi, uno più bello dell'altro, hanno fatto innamorare generazioni e generazioni e continueranno a farlo. E lo vediamo qui col signor Mucci che rimane innamorato della sua signora e della sua automobili. Oggi si sta godendo vicino alla sua macchina e affianca a lui il suo cuore che pulsa, la sua signora. Signori e signori, thank you, grazie a tutti quanti. Adesso passo la parola a Ciccio, così poi chiamiamo l'organizzatore e ci dice la prossima tappa della nostra giornata. Grazie a tutti da Rose of Puglia. Ringraziamo anche con un applauso il nostro Joe, una spalla meravigliosa che gradirei avere in tutte le mie ricorrenze, già l'immagino sulle spiagge del Sud Italia. Grande, grande Joe, grazie, grazie, grazie per il tuo supporto tecnico. Ringraziamo a tutto quanto lo staff, ovviamente non possiamo che non sentire il nostro presidente che sicuramente vorrà esprimere due parole per tutti coloro che hanno partecipato a questa manifestazione, a questo raduno meraviglioso. Tanta, tanta bella gente, tanti visitatori in nostra compagnia. Eccolo chi arriva, il nostro Maurangelo, Joe. Eccolo! Cedili pure il microfono. Spegniamo, spegniamo. Allora, possiamo avere gentilmente qui... Un'intervista, aspetta! Un'intervista, ovviamente la dobbiamo fare, ci mettiamo a favore di luce. Sì, ovviamente la dobbiamo fare.